Al cubo Stanno a scelta Hittato 1.30 Azione al cubo Hittate un altro Aterra 1 Hittate 1 Hittate 1 Un po' di loot 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 non c'è band e 2 mini shield ci sono 4 cm ci sono 4 cm no curate te c'era ta nico puoi tenere la clavizura te puoi tenere 2 mini shield dico qui dove la Tom ci sono la Tom qui non la vedo cos'è il suo il suo il suo Unsafe, unsafe Sono affondito io adesso Quante chili? Eh io ho fatto affondito Io c'ho due fallo, dopo te ne mettevamo Eh io c'ho una jump C'hai una jump? Sì Oh metteva affondito Voi Aspetta, provo se la metto aspetta Vieni qua Io metto un'altra folla con la cagente Questa lo sappiamo No 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 Vieni qua Dopo dammi una Una riamperina Vieni qua Vieni tu ho messo il fallo Eh niente, guarda di stare Vieni qua Vai vai vai, attenta, attenta Vai mettono un'altra Aspetta, ho tenuto un'altra Un'altra folla con la caglia Un'altra folla con la caglia Materiale non c'ho tracciato Eh io non c'ho tracciato Tutto qua Qui c'ho una Dei onper Vai esci Fatti i materiali tu Vieni qua Vieni qua Vedendo il boschetto Non c'hanno c'ho tracciato Non c'ho tracciato Cosa c'è gente? C'è la prima partita? si basta che magna oh io l'ho sul lancio granato ho trovato le granate non dà urto allora 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 eccoli allora lo potevo prendere no no ce l'avevo anche davanti brava bene se l'ho lancio granato non lo potevo prendere è stato il compagno sopra one shot guarda ci stavo a morire perché hai detto one shot c'è il compagno la sopra, l'ho aiutato col cio se vuoi c'è la fenditura o andavo a push up c'è un altro team la? stai attento perché ste robe fra? andiamo via sono già no anch'io ce l'abbiamo stai attento tu c'è il lanciagranata e li puoi chichinare benissimo c'è il lanciagranata e li puoi chichinare benissimo ho quattro ore c'ho tre granate c'ho tre granate tu c'è il lanciagra ciao tu c'è il lanciagra dire? tu sei un lanciagra się un lanciagra tu c'è il lanciagra tu c'è il lanciagra era era il lanciagra Altro tema questa Stiamo buoni noi Sì 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 Poi il prezzo c'è anche dietro Sì lo so sto cichino a quelli l'ho io Fra vieni c'è un solo Scappiamo Metti la jump Che la metto io Vieni qua con me Eh lo so Non ho perché ti ho detto scappiamo Siete questo Lancia granate potreste fanno di volta ma non capisco Ma non capisco Ma non capisco Sta attento che ti giochi non ho Ah bravo hai capito Sì 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 Mi stava lagando io ho potuto fare Ciò Non l'hai guardato Mi stava da 90 Orta Porta c'è 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 io non mi sa che vado a pushar se qua lancia granate c'è prova a lanciare il colpo di lancia granate dai allora non sa cosa fa si 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 Sì, 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 sì. Ingo jump! N-n-n-n Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Forza la terror! Atento al altro team Sto un agnora L'altro team, l'altro team nico ciao scendiamo, mi serve un po' di materiale nico colpi i rati c'è da zero, ah no, uno tre che ne viste, viste un po' di materiale no che sfiga dove hai visto ecco safe ecco safe dai dai è morto, è morto, c'è uno di vita c'è uno di vita fra, uno, sta attento che c'è un lancia granate lancia raggi, c'è uno di vita fra costruisci, costruisci, costruisci sta cura, ti butta giù la scala fai lì, bravo, hai uno di vita, ti giuro io ho fatto un po' schifo, sono cinque assi grazie 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 grazie